Grazie, buongiornissimo e benvenute in questo nuovo vlog Allora, già vi dico che è un vlog molto molto importante Metto un po' più dietro perché voglio che questo colore, che è bellissimo in palette Mi risalti un sacco E' un vlog molto importante perché vi porterò con me Farò una cosa che volevo fare da un sacco di tempo E finalmente mi sono decisa a farla Prima però devo scaricare un po' le tensioni Devo mangiare, mi devo andare ad allenare Mi devo dare una sistemata con un velo, un velo di trucco Proprio poco poco Indosso un completo di Oceans a parte che è bellissimo Guardate, questo è nuovo, si chiama Jenny Lo amo perché fa un effetto bellissimo al seno C'è anche le coppette Poi la cosa bella è che ha la bretellina super regolabile Veramente bello, anche la parte di sotto è super push up per i glutei Adesso ve lo faccio vedere e vi do anche un codice sconto Guardate che bello questo set Jenny Adoro, è bellissimo C'è anche il sole che mi illumina Adoro Tra l'altro ragazze, io l'ho messo ora con gli stivaletti Perché non devo andare ad allenarmi E quindi vi faccio vedere come potete indossare questi set Anche se non dovete andare ad allenarmi Ma nel quotidiano, io li amo Questo è bellissimo Guardate che bell'effetto che fa Super super fasciante Anche se come me avete un po' di pancetta Ho messo questi stivaletti Sono super comoda Adesso sopra vi faccio vedere Che mi posso mettere Ho due opzioni Le ho messe qua Mi posso mettere Ho questa felpa che è bellissima Adoro Sempre di Oceans E questa qua che è anche bellissima Ed è una felpa Ma guardate che bello Con questa felpa È bellissima Poi vi metto I link Le box informazioni E anche i nomi E avete Il 30% Più regalo Quindi una bellissima promo Col mio codice Carlita Combo Avete il 30% Su tutto il sito Più regalo E tra i regali Ci sono anche le felpe Calde Comode Quelle che veramente Sono bellissime Di Oceans Comunque La amo Questa qua Anche aperta C'ha le tasche Il tessuto È pazzesco È bellissimo Altissima qualità Veramente bella È calda Bella bella C'ha le tasche qua Guardate quanto è bella Adesso me la chiudo E raga Adoro alla follia Questo look Guardate che bello Con Proprio per uscirci Con i stivaletti Leggings La felpetta È il toppino Sopra Così Adoro Mi piace Un sacco Voi che ne dite Io Ragazze Penso che ho già scelto Ecco qua Guardate Quanto è bello Perché mette risalto Anche il seno Con la felpina I leggings Sono bellissimi Correte a fare acquisti Su Oceans A parte Le cose sono veramente Stupende O poi una cosa Devo dirla Utilizzo prodotti Oceans Dall'inizio Che sono emersi Come azienda E vi dico Che hanno fatto Dei progressi Strepitosi Nel tempo Proprio nella qualità Già erano ottimi Ma adesso proprio Ne accorgo Anche quando Nel lavaggio Si mantengono Integri Quando ti alleni Sono super elastici Sono comodi Sono caldi Confortiboli La qualità È eccellente C'è anche dopo Mille lavaggi Non si muovono Proprio Quindi Veramente È un'azienda Che lavora bene È migliorata Proprio nel tempo È paragonabile Secondo me Anche nell'allenamento Anche superiore A marche Super famose Conosciute Insomma Che stanno Da più anni Quindi a me Mi piace un sacco E ve la straconsiglio Approfittate Carlita Combo 30% Più un regalo Guardate le box Info Che vi metto Il link Io ho deciso Che esco Così Mi piace un sacco Ancora uno sguardino Vabbè Adoro questo look Bello Perché il nero Chiama gli stivaletti Comunque Questo completo Questa C'è anche in altri colori Ed è il nuovo set Jenny Molto molto bello Anche per allenarsi Andate sul sito E trovate Varie novità Anche in altri colori Così si vede Un po' scuro Però vabbè Si vede Si capisce La bellezza Si capisce Ora cosa sta mangiando Cosa stai mangiando Amore La cotoletta E' vero Fai vedere come mangi Fai la um E' mia Ah è tua Sì 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 Emma Mi ha già aperto in bocca Va vedere come sei bravo Saluta tutti i bimbi Dici ciao bimbi Io mangio la cotoletta Ah mamma la vuoi dare Mamma se la prende Che buona Che buona Mangia tu ora Bravo Ragazzi Sto bimbo mangia pizza e pasta e cioccolata Con piacere Il resto Mamma mi E' vero mamma Vuoi mangiare sempre pizza e pasta e cioccolata Devi mangiare questo Che fa bene Guardate quanto è bello Bravo mamma Che bufi Bufi saluta Qua Bufi qua Saluta qua A tutti gli amighetti Visto che mi dite sempre che non la faccio vedere Sta qua Sta bene E' vero amore saluta Saluta Tutti gli amighetti veloci Sei felice? Tiki 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 Vieni qua Pupi guarda qua Pupi guarda qua Pupi biscottino Non vuoi biscottino? Parola magica Biscottino Grattatina Vero mamma? Pupi a mamma Dove vai? E' venuto anche lui Sei geloso? Ragazzi anche questi bimbi sono gelosi Cioè Pupi non è geloso E' Daniel che è geloso di Pupi Vero? Vuoi salire un salutino? Due pannucci Che poi butti a terra Mannaggia a te Mannaggia Mandami un bacio Manda un bacio qua nella telecamera No No? Perchè? Come sei bello Guardiamoci e te Guardate ragazzi Siamo due gocce d'acqua E' vero? Guardate come ci somigliamo Ma lui vuole la videocamera Aaaaa Aaaaa Ciao Pupi Ragazzi sono venuta con la mia mamma Mamma saluta Siamo venuti a fare un giro Al centro commerciale E c'è anche Daniel Daniel saluta Ciao Adesso dovevo fare un giretto Devo comprare certe cose Tra cui le cialde di caffè E altre cosine Vi porto con me E siamo bocca al dulce Qua nel centro commerciale Cioè dire come porti il carrello Mamma mia che bravo Ragazzi Guardate qua come porto il carrello E' diventato bravissimo Vieni vieni Di qua di qua di qua Vieni 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 Bravo 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 Lui vi aiuta a fare la spesa Ragazzi Daniel Accendo nelle giostrine Saluta Daniel saluta qua Daniel Non sei andata a vedere là Vediamo se al secondo giro ci saluta Daniel Saluta qua Ciao Ciao Guardate a mia mamma Che indossa Anche lei Oshantza a parte Ragazzi Questa è una cosa La mia mamma è venuta a casa mia Anche lei è pazza Di Oshantza a parte E' vero mamma? Mi piace Guarda com'è bella Questa felpa Anche per tutti i giorni E' vero Perché non Non mi piace Per andare in palestra Tutti i giorni Le tute Su Oshantza a parte E' bellissima Brava mamma E' un rischio Grazie ma Grazie Comunque ci stiamo mangiando Questi crackers Li voglio far vedere Sono buonissime E' vero mamma? Sono veramente buoni L'abbiamo comprate A suo mercato E sono con 30 grammi Di 3% di grassi meno Sono veramente E' veramente buoni 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 Ve li straconsiglio Sono buoni a mamma Si E ragazzi Ho preso le poche Guardate come sono belle Questa è con Gli edamame Il salmone I pomodorini La filadelfe Pistacchio La mia Mi sono fatta dare Ovviamente anche La salsa piccante Perché la amo La salsa di soia E a me Ho messo anche Wakame La cipolla croccante Ovviamente Il salmone Sotto c'è il riso Buon appetito Ho preso anche Un po' di sashimi Adoro Lo amo Lo faccio pure Qualche tic toc Si oggi Vado a indossare Questo nuovo Completo Invece Che sempre Ho preso ora Perché ce l'avevo Anche così In grigio E mi piace tantissimo Perché c'ha lo scollo Appunto qua Per il seno Valorizza un sacco Il seno Con le coppe E anche il gluteo L'ho preso anche Questo colore Guardate sul gluteo Come è super push up E' bellissimo L'ho preso anche Questo colore E si chiama Summer Berry E' bellissimo Veramente Veramente Bello E Cioè vi dico Che già lo utilizzavo Quello me lo metto sempre Mi prendo un'alternativa E sopra Vi metto questa felpa Che è semplicissima E ma è super 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 Bella E questa si chiama Jenny sweater Bellissima Veramente Nera Poi super calda Vedete Dentro c'ha tutto Il La parte calda Veramente bella E poi ho preso Anche la borsa Guardate che E' carina E' piena di tasche Sia dentro Sia di lato Qua davanti E' bellissima Troppo troppo bella Questa borsa Con tutta la scritta Oceans Sui manici Bellissima Mi piace perché E' compatta Non è eccessivamente grande Ma non è troppo piccola E' proprio perfetta Per la palestra E adesso E adesso Vi metto il tutto Perché mi devo andare Ad allenare Se guardate Quanto è bello Questo set Indossato E' bellissimo C'ha le coppe Quindi Praticamente Ha un effetto Push up Sia sul seno Che sul gluteo E' veramente Veramente bellissimo Con questa fascia Che contiene La pancetta Guardate qua Che meraviglia Veramente bellissimo Adesso mi vado ad allenare Mi sono vestita Tutta a sporti Per andarmi ad allenare Praticamente sotto Ce la vedete Come se fosse Un secondo top Che contiene Tutto il seno E questo sopra Che lo potete mettere Fine dove volete Quindi Approfittate Se lo volete Prendere questo Approfittate Perché è veramente Bellissimo Ce l'ho anche in grigio Ve l'ho detto E' veramente Il mio set Preferito Per allenarmi E avete Il 30% Più Un prodotto Gratis Sul sito Oceans Il link Ve lo metto Nel box Informazione Il codice Carreta Combo Quindi approfittate Questo è veramente Il top Non vedo l'ora Di andare Ad allenarmi Così mi riscaldo Un po' Ragazzi D'inverno E' bello Allenarsi Così ci si riscalda Ragazzi Guardate anche La felpa Quanto è bella E' bellissima Ed è super calda Dentro Bellissimo Questo completo Anche questo Fammi sapere Quale vi piace di più Se questo O quello di ieri Troppo bella Questa felpa Mi piace Un casino E questa anche Con i jeans Vabbè Comunque anche Con i jeans Per uscirci Voglio dire La vuoi finire Tu di fare casino Bravo E guardati pure Tu nello specchio Fa vedere Nello specchio Come stai Bello il tuo outfit Vetti pure la gamba Guarda Bravo Vetti pure la gamba Eccomi Eccomi Pronta Per andarmi ad allenare Con la bag Sempre oceans Vado ad allenare A dopo Se allora Sono appena tornata A casa Scusate Scusate l'aspetto Sono un po' distrutta Perché appunto Mi sono andata Ad allenare E sono andata Anche a fare Una cosa Importantissima Che è una cosa Che vi consiglio Di fare a tutti Sapete che io Sono esposta Da tantissimo Sui social Sapete che Veramente Non subite Di ogni Però I social Sono un po' Lo specchio Di quello che succede Appunto Nella vita No Fenomeni come Bullismo Stalking Fenomeni come Appunto Persecuzione Fra virgolette Tutti questi fenomeni Non devono Intimidirvi E non devono Appunto Non dovete Soccombere A questi fenomeni Io oggi Sono andata Dai carabinieri Appunto Per Per denunciare Delle persone Delle situazioni Che non mi stavano Più bene Come sapete Sono anche Molto attiva Sugli altri social Quindi sia Su IG Che su TikTok E in particolare Su TikTok Si è scatenato Un po' Un putifero Sto ricevendo Tantissime Offese E tantissimi Messaggi Veramente Veramente Brutti Sia Pubblici Che privati Comunque Se andate a vedere Ve ne rendete conto Di Gentaglia Veramente Veramente Gentaglia Io comunque Sapete che Comunque Sono Un influencer Lavoro Sia qua Su Youtube Che su IG Comunque Ho mio shopping Online Quindi sono anche Imprenditrice Ho la mia linea Beauty Quindi Per me Su TikTok I video che faccio Sono pure Intrattenimento Comunque Mi diverto E poi Devo dire La verità C'è anche una bella Community Ci sono tante persone Che comunque Mi seguono Con passione E con affetto Quindi comunque Mi diverto Mi piace Però comunque Ci sono tante persone Che veramente Non si regolano Non si regolano Proprio E quindi Ho deciso Di denunciare Ho deciso Di denunciare Questa situazione Sono contenta Di farlo Perché ve lo sto dicendo Non perché Io sia tenuta A farlo Perché comunque Poi quando tu fai Una denuncia Dei carabinieri Comunque poi Sono loro Che si Seguono Comunque il caso Eccetera Però io Ve lo voglio dire Perché Perché Questo messaggio Il messaggio Che deve passare È quello che Nella vita Nulla vi dovete Tenere E non vi dovete Far abbattere Da queste persone Da questi episodi Negativi Perché Voi tenete conto Che io sto Sui social Dal 2009 Se non sbaglio 2009 2010 E ne ho subite Di ogni Tante volte Voi mi chiedete Ma come fai Ad andare avanti Nonostante Tutti questi commenti brutti Tutte queste cose brutte Che ti fanno le persone Beh ragazze Il segreto È innanzitutto Che comunque Per me è diventato Un lavoro Quindi comunque È una cosa Che mi piace fare È una cosa Che comunque Io ho sempre lottato Contro tutti Anche se ho avuto Momenti Di Di debolezza Che veramente Comunque Avevo pensato Di abbandonare Tutto Eccetera Ma la forza Amore Sto facendo Un video Anche io Anche tu no A mammina Chiudi la porta Dopo Dopo Va bene Vuoi fare un saluto Scusate 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 per l'interruzione Per fare un salutino Qua Qua Ciao Dici io sono Ciao Sono Daniele Sono Daniele Oh Quanti anni hai Due No Tre Va bene Vai a mamma Dai Chiudi la porta Che mamma sta lavorando Va bene Poi dopo vengo No Esci però Esci però E chiudi la porta E l'uso Eh no Ma devi uscire No Comunque ragazzi Il senso è questo E che io Non mi sono mai battuta Grazie alle persone Che mi seguono A voi Che voi Mi avete dato la forza Di andare avanti Voi Mi avete Veramente supportato Quando io Volevo mollare Quando comunque C'erano tante persone Cattive Vi giuro che mi hanno fatto Anche minacce di morte Ne ho subite Veramente di ogni Io I miei familiari Per esempio Me l'hanno dette Anche su Daniel Me l'hanno dette Su tutti Comunque va bene Vi devo lasciare Perché lui mi reclama Amore Non toccare Non toccare Amore No Quindi niente Questo voglio dire Ragazzi Anche nella scuola O nel lavoro Se c'è qualcuno Che vi offende O comunque Vi fa Vi fa stare male Vi vuole mettere I bastoni Fra le ruote Voi non mollate Parlatene con gli altri Parlatene con chi Vuole bene E denunciate Ogni situazione E soprattutto Andate avanti Io non ho mai mollato Nonostante le difficoltà Nonostante tutte Ma vi giuro Potrei scrivere un libro Su tutte le cattivere Che mi hanno detto E fatto Nei social E Tante cose le ho dette Tante cose Non le ho dette Neanche Attenzione Tante cose Non le ho dette Neanche Perché Avrei Aggravato Ancora di più Quindi me le sono Tutte Però sono qua Però sono ancora qua Sono qua Con voi Che mi volete bene E non molliamo Non molliamo E' vero E grazie sempre a voi Che mi seguite Con tanta forza Vi aspetto anche su tiktok Supportatemi Nei video Nei commenti Ho bisogno di voi E niente ragazzi Vi mando un bacio grande E grazie sempre Un bacio grande E grazie sempre Mua Mandate un bacio Ciao Ciao Al prossimo video Sì Ciao